Ci sono i precedenti a far ben sperare la Fidelissandria, nonostante sulla strada di una possibile inversione di lotta ci sia il Benevento. L'avversario peggiore, terzo in classifica, nel momento più delicato. I Biancazzurri non vincono e non segnano da cinque partite, ma ci sono i precedenti di questa stagione che confortano Luca D'Angelo. Perché contro formazioni di alta classifica la Fidelissandria non ha mai sbagliato, nonostante in alcune occasioni, proprio con il Benevento nella gara d'andata, sia finita con una sconfitta. Insomma, le condizioni ci sarebbero per cercare un possibile colpaccio o in subordine, un buon risultato che possa far dimenticare il passo falso dell'ultima giornata contro la Paganese. D'Angelo sa che il punto di forza della sua squadra è la fase difensiva, anche se per l'occasione sono da valutare le condizioni di Stendardo e Ferrero, ma si aspetta che scocchi la scintilla in attacco. Perché da quando si è infortunato Strambelli, la Fidelissandria fa fatica a segnare, anche se sarà solo un caso che le due situazioni coincidano. La scossa potrebbe darla alla scelta di D'Angelo di puntare su Grandolfo e Devena, provati in settimana nel test contro la Berretti. Scelta che riporterebbe in panchina Cianci, ma per lui non si tratta di una bocciatura, e lascerebbe Bollino ancora indietro nelle gerarchie dell'attacco. Se il centrocampo non si tocca, un po' per affidabilità, ma anche perché non è il caso di rischiare la rivoluzione proprio a Benevento, quello che D'Angelo vorrà vedere contro i Sanniti sarà il gioco, smarrito dalla Fidelissandria che nel girone d'andata ha sorpreso tutti, ma da cinque giornate è diventata monotona.